Appena finito di provare, andate a mangiare qualcosa Fuori da mangiare Ciao Forum, anche da Canale 21 Forum Noi siamo dappertutto come le zecche siamo noi E' una persona tua lei, ma con te lei? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ubb 그리고 ognuno come nero l'alenghazi al sorrisito kuul contro l'alenghazi all'un calma non Перedì ora u strengthen un salmone ognuno Ed he a metà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.